Sì. Buonasera a tre spettatori della Sette. Allora benvenuti all'edizione principale del TG, quello delle 20. Ci sono molte notizie dall'Italia di cui parleremo, ma partiremo ancora una volta con la Norvegia. La voglio fare citando una frase, da mio parere, a nostro parere molto bella, molto intensa, quella pronunciata dal primo ministro norvegese Stolterberg che ha affermato che reagiremo a questa immane tragedia con maggiore democrazia. Beh, effettivamente ci vuole coraggio davanti a quella che è realmente un'immane tragedia. Oggi è morto ancora un altro dei feriti, siamo a 93 vittime mentre si continua a scavare nelle macerie nel quartiere di Oslo. Peraltro l'attentatore collabora con la polizia e i servizi segreti stanno attentamente studiando un memorando, un delirante che è stato pubblicato su internet prima della strage in cui ci sono anche minacce all'Italia e al Papa. Per quanto riguarda le notizie invece dell'Italia, la politica, la politica con Gianfranco Fini che oggi sponsorizza un governo a guida Maroni, cioè del ministro dell'interno Maroni, appoggiato dalle opposizioni. Ma l'interessato Maroni e anche il PD rispondono, diciamo così, picche. Poi ci sono le inchieste, le inchieste che vedono coinvolti uomini di destra e di sinistra a partire da quella di Marco Milanese, il deputato del PDL, ex braccio destro di Tremonti. Ci sono delle novità, ricordo che la procura di Napoli ha chiesto l'arresto per Marco Milanese e su questo dovrà decidere la giunta per le autorizzazioni a procedere proprio mercoledì prossimo. Poi c'è quanto è accaduto questa notte alla stazione Tiburtina di Roma, è un importante nodo strategico, lo diventerà per quanto riguarda i treni ad alta velocità. C'è stato questo incendio che ha mandato in tilt praticamente il trasporto ferroviario di quasi tutta Italia. Si sospetta che possa essere un attentato, un incendio doloso, ma lo dobbiamo dire e sottolineare che al momento non ci sono prove che facciano pensare questo, ma soltanto un sospetto proprio perché si trattava di una cosa che poteva riguardare la TAV. E poi ci occuperemo anche dello sport perché c'è la Formula 1 con il piazzamento tutto sommato normale della Ferrari, anche se è soltanto un secondo posto, ma soprattutto c'è questa grande atleta italiana, Federica Pellegrini, superstar ancora una volta a Shanghai, ha vinto i 400 metri, stile libero e regala all'Italia, al nostro paese, ancora una medaglia d'oro. Ma cominciamo con la lettura dei titoli del telegiornale. La doppia strage in Norvegia, l'attentatore Anders Breivik ha lasciato sul web un memoriale di 1500 pagine disseminate di simboli celtici e crociati. Titolo, 2083, dichiarazione di indipendenza europea. Pensava agli attentati da nove anni e descrive come preparava l'esplosivo e le armi. Si sarebbe ispirato alle gesta di una bomber. Ho agito da solo, dice il killer, rivendica il mio gesto, è atroce ma necessario, ma la polizia continua a cercare possibili complici. Sul web lancia folli minacce anche al pape e all'Italia. A Oslo, solenne commemorazione, il premier Stoltenberg reagiremo con più democrazia. Muore uno dei feriti e sale a 93 il bilancio delle vittime, 5 i dispersi. Tra Berlusconi e Lega al momento sembra esserci solo una tregua dopo lo strappo sull'arresto di Papa. Martedì la prova, si vota sulle missioni militari. Fini propone un governo con Maroni premier, invitando il PD ad aderire, ma non trova sponde. Il ministro dell'interno blocca tutti, questo governo resterà fino al 2013. A Roma un violento incendio di vampa all'alba nella centrale elettrica della stazione Tiburtina, snodo della linea ad alta velocità, le fiamme domate solo nel tardo pomeriggio. Intilte il traffico ferroviario in tutta Italia, con disagi e ritardi di ore. Vigili del fuoco, sembra un cortocircuito, nessuna traccia di dolo, ma non possiamo escluderlo. A Washington inizia la lunga notte di attesa per il presidente Barack Obama. Ma democratici e repubblicani cercano un'intesa per evitare il default dell'economia della più grande potenza mondiale. L'obiettivo è una legge bipartisana per alzare il tetto dell'imponente debito pubblico, la scadenza è di poche ore, prima che le borse riaprano. Federica Pellegrini fa il bis d'oro e a Shanghai si conferma campionessa mondiale dei 400 stili libero, come due anni fa a Roma. Non è invece pomeriggio di trionfo, ma non va male per la Ferrari. In Germania Alonso è secondo, dietro Hamilton, ma si batte alle spalle le due Red Bull. Allora, ancora benvenuti all'ATG della 7. Sarò il mostro più famoso dalla fine della seconda guerra mondiale. Queste sono la delirante frase pronunciata dall'attentatore norvegese Breivik quando è stato arrestato della polizia. Intanto le forze dell'ordine stanno attentamente analizzando il memorandum che l'uomo ha pubblicato su internet prima della strage, in cui si legge stavo preparando tutto questo da almeno nove anni. E all'interno di questo memorandum ci sono anche minacce all'Italia e al Papa. Ho impiegato nove anni per questo progetto. Sembrerebbe un'operazione maniacale quella di Anders Bering Breivik, anche per come è stata portata a compimento sparando fino all'ultimo sui ragazzi di Utoia, fino a che non si è visto puntare contro le armi dell'antiterrorismo norvegese. Lo scrive nel suo memoriale di oltre 1500 pagine, dato in pasto ad internet pochi giorni prima della strage, ma come spesso accade è la mitomania la nota dominante. Il mostro di Oslo, infatti, non ha un pensiero proprio, ma copia, quasi di sana pianta, una delle menti più brillanti, più folli tra i criminali d'America, il matematico raffinato, il professore universitario, Theodor Kaczynski, Luna Bomber. Il titolo è da film di Kubrick, 2083, una dichiarazione di indipendenza dell'Europa, manifesto ideologico sulle debolezze del vecchio continente, eroso dal multiculturalismo marxista, e dallo stesso tempo un invito ad aprire una stagione di guerra civile che non può che concludersi con la vittoria delle forze pure del nazionalismo dell'ultra destra e la deportazione degli islamici, vero cancro del continente, esattamente nel 2083. Il memoriale è ricco di dati, statistiche, riferimenti religiosi legati ad una visione cristiana ultraortodossa che ha i suoi risvolti ridicoli nelle foto di Breivik, vestito da massone e da templare, cavaliere dedito al segreto, pronto a riconquistare non il santo sepolcro, ma la vecchia patria invasa da culture e religioni di odio, scrive, descrizioni surreale se si pensa che proviene da qualcuno che ha appena ucciso quasi 100 persone. Da qui gli attacchi al Papa e al suo stupido modo di avere a che fare con l'Islam e dall'Italia regina nell'indottrinamento dei propri cittadini. Nessun partito si salva dai peccati capitali del multiculturalismo e dell'umanesimo suicida. Per Breivik, Berlusconi, Bersani, Di Pietro, Casini sono la stessa cosa. Più concreta e meno farneticante è la parte che guida verso la preparazione della strage. Ci sono i dettagli precisi su come pianificare l'operazione, come evitare i sospetti di genitori, parenti e amici, persino i consigli psicologici su come restare motivati a lungo, fino alle istruzioni su come procurarsi e utilizzare i composti chimici per farsi l'esplosivo in casa. Il memoriale ci spiega anche che cosa ci possiamo attendere da Breivik a partire da oggi. Se si viene catturati è meglio, scrive il killer, perché la fase del processo per voi sarà quella della propaganda. Ecco perché si è lasciato a manettare senza sparare un colpo. Già domani lo vedremo davanti al giudice per nulla pentito e pronto ad usare la stampa come un pulpito per predicare le sue idee copiate. Il diario si chiude con una data che fa venire i brividi, venerdì 22 luglio, un'ora e mezza prima dell'esplosione dell'autobomba nel centro di Oslo. Ecco intanto in Norvegia naturalmente le indagini vanno avanti, ma oggi è stato anche il giorno della commozione durante una solenne cerimonia per ricordare le vittime che si è svolta all'interno della cattedrale di Oslo ed è stata molto importante, lo dicevamo prima, la frase del premier Stoltenberg che ha detto a tutto questo noi reagiremo con maggiore democrazia. Per anni ha covato il suo piano criminale, ha pianificato la geometria degli attacchi punto per punto. Adesso di fronte al fiorfiore degli investigatori di Norvegia, il giovane Breivik, nazista dei giorni nostri, ha confessato su due piedi, quasi con soddisfazione. Ha definito la strage crudele ma necessaria, rivelando che la pensava da anni e ha iniziato a organizzarla dal 2009, ma ha precisa, non sono un criminale, voleva risvegliare la società, ha detto il suo avvocato, domani comparirà in tribunale davanti al giudice che dovrà decidere del suo arresto. La polizia ha ricostruito quei momenti, le teste di cuoio quando sono arrivate sull'isola hanno impiegato tre minuti per bloccarlo, lui non ha posto resistenza nonostante avesse armi cariche e molte munizioni. Ha detto di aver agito da solo, ma tra gli scampati dell'inferno di Utoia, la piccola isola delle Catombe, la polizia ha raccolto numerose testimonianze che parlano di un secondo killer in azione. La bomba a Oslo e poi la carneficina di Utoia, come può un uomo solo aver fatto tutto questo? Le indagini non escludono complici e caccia. Una retata nella zona nord-orientale di Oslo con sei persone fermate, tensione alle stelle ma nulla di fatto, non sono state trovate armi né esplosivo, tutti rilasciati. Norvegia, il lutto, una cappa di silenzio, candele, ceri, fiammelle, pelusce, pupazzetti per le giovani vittime innocenti. È il giorno del grande abbraccio. Messa a suffragi in cattedrale a Oslo, presente la famiglia reale. Re Harald, quinto con gli occhi lucidi, il premier, Stoltenberg commosso. La nostra risposta deve essere più democrazia, questo dobbiamo alle vittime, dice con la voce che si interrompe e rivela che conosceva molti dei ragazzi morti che chiama eroi. Al campus sull'isola partecipavano anche i suoi figli. Fuori processione di gente, tappeti di fiori sull'isola, continuano sopra luoghi e ricerche di dispersi. Ne mancano cinque. Ragazzi che per fuggire alla follia omicida si sono buttati in mare nelle acque gelati, sommozzatori e gommoni. Qualcuno racconta di essersi salvato perché si è finto morto. Sparava inseguendo le persone, dice questo giovane ferito in ospedale. Certo non gli sarà facile dimenticare quelle scene di caccia all'uomo, la follia stragista di quelle ore. Allora, torniamo ora invece alle nostre vicende di politica interna e alla difficile pace fra la Lega e Berlusconi. Soprattutto dopo l'arresto dell'onorevole Papa, il Carroccio giura fedeltà al Premier, ma Berlusconi non si fida fino in fondo. Soprattutto perché poi in questa settimana sarà una settimana molto importante per l'iter parlamentare con molti momenti che potrebbero rappresentare un'insidia per la maggioranza. Sentiamo quali. Lavoriamo perché il Governo arrivi a fine legislatura. La nota ufficiosa che trapela dal Viminale prova a mettere la sordina ai sospetti che gravano su Roberto Maroni, descritto nella velina come indifferente alle ipotesi che circolano su nuovi esecutivi da lui guidati. Il ministro cioè non ha intenzione di prestarsi ad operazioni di palazzo tese a spodestare Berlusconi. Il riferimento è ad ipotesi come quella lanciata oggi da Gianfranco Finino in intervista, sia ad un governo guidato da Maroni, ma anche ai retroscena che descrivono un Berlusconi furente nei confronti del suo ministro dell'interno. Una nota ufficiale di Palazzo Chigi ha liquidato come fantasioso un articolo di Repubblica in cui si attribuiva al Premier la volontà di emarginare Maroni. Ma di certo è lui che in questo momento turba di più i sogni del Cavaliere, preoccupato che il voto leghista di mercoledì sull'arresto di Papa, fortemente voluto da Maroni, sia stato il primo passo dello sganciamento dello storico alleato. Il Premier teme che Bossi, con il quale ha avuto un chiarimento telefonico e che continua a considerare un interlocutore affidabile, non controlli più il partito. La Lega parla con una voce sola, non esiste chi risponde a Bossi e chi a Maroni, la risposta del Senatur, suonata anche come un avvertimento all'amico Bobo per interposta persona, il fedelissimo Giancarlo Giorgetti, segretario lombardo della Lega. E a lui che Bossi sembra rivolgere la frase più esplicita. La Lega è chiara di avere una sola parola, può avere dieci parole, se la si crea solo confusione, nella gente non so che starebbe difficile. Quindi occhio, occhio perché anche mi potrei incazzare, tanto sono incazzato. I prossimi test sulla tenuta dell'alleanza PDL-Lega sono assai ravvicinati. Martedì al Senato si vota il rifinanziamento delle missioni all'estero, sul quale c'è stato già il pronunciamento del viceministro leghista Castelli, voterò no. Quel giorno, sempre a Palazzo Madama, dovrebbe approdare un'altra legge destinata ad arroventare il clima, il cosiddetto processo lungo che contiene norme che potrebbero rallentare i procedimenti nei confronti del Premier. E sempre martedì è previsto un vertice del PDL a Palazzo Grazioli. Argomento principale è la scelta del sostituto di Angelino Alfano al Ministero della Giustizia, sollecitata da Napolitano e dallo stesso Alfano. Veniamo al fronte delle apposizioni che oggi in qualche modo è agitato da un'intervista concessa a Repubblica dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, il quale dichiara chiusa l'era del governo berlusconiano, candida ad un nuovo governo il Ministro dell'Interno Maroni con un governo diciamo in qualche modo ad appoggio delle opposizioni, ma entrambi lo gelano. Sentiamo. Un nuovo governo guidato dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni con l'appoggio del Partito Democratico e del Terzo Polo. L'idea lanciata sulle colonne del quotidiano La Repubblica dal Presidente della Camera Gianfranco Fini viene accolta da un coro di no. Il governo passeggia sull'orlo del baratro dice Fini ha perso credibilità in Europa incapace di affrontare le emergenze del Paese. Serve un nuovo esecutivo con un programma di soli due punti riprese economiche e riforma elettorale auspica Fini ad un anno di distanza dall'espulsione dal partito del Premier e a suo dire senza rimpianti. Il Presidente della Camera si dice pronto ad appoggiare anche un leghista a Palazzo Chigi lanciando il nome del Ministro dell'Interno Maroni. Qualunque governo senza Berlusconi a Palazzo Chigi è senz'altro un'evoluzione positiva commenta il Vice Segretario del PD Enrico Letta ma il Partito Democratico non sosterrebbe in alcun modo esecutivi che siano guidati da esponenti dell'attuale governo responsabile ricorda Letta dei guai in cui si trova l'Italia il Paese ha bisogno di un cambiamento vero e profondo non basta superare Berlusconi bisogna superare il berlusconismo sostiene a sua volta Maurizio Migliavacca coordinatore della Segreteria Nazionale del PD serve discontinuità Antonio Di Pietro leader dell'Italia dei Valori boccia l'idea di un esecutivo balneare pur riconoscendo che tutto può andare bene affinché si superi Berlusconi Di Pietro invita ancora una volta però ad andare subito al voto scontate le stroncature che arrivano dalla maggioranza per il capogruppo del PDL alla Camera Fabrizio Scicchitto quella di Fini è una pericolosa manovra di puro tatticismo segno della difficoltà politica del terzo polo per Osvaldo Napoli PDL presidente del Lanci quella del terzo polo è soltanto una formazione politica a tempo determinato priva di strategia dal sottosegretario Daniela Santanchè arriva una controproposta al veleno sia al dialogo con il terzo polo purché caccino Fini ed ora l'inchiesta l'inchiesta che viene indagato l'esponente del partito democratico Filippo Penati l'uomo accusato ricordiamo di corruzione il finanziamento dei leggi dei partiti concussione passa l'attacco smentisce chi lo accusa parla di contraddizione ma intanto nell'inchiesta spuntano i nomi di nuovi indagati solo accuse da un indagato che tenta di coprire i suoi guai con la giustizia si difende così Filippo Penati il dirigente PD che per i magistrati di Monza avrebbe preso una maxi tangente da 4 miliardi di lire anche oggi non vuole parlare in tv sceglie l'agenzia ANSA per smentire chi lo accusa cioè l'imprenditore Piero Di Caterina quello che per i PM è il collettore di soldi per conto di penati e che oggi insieme all'altro imprenditore Giuseppe Pasini è la gola profonda di questa inchiesta un'indagine complessa in cui entrano anche i nomi dell'era tangentopoli Bruno Binasco è l'imprenditore che nel 93 finisce in manette per aver illecitamente finanziato il partito comunista tramite primo greganti con 150 milioni di lire oggi è indagato dai magistrati di Monza sempre per finanziamento illecito questa volta il dirigente PD Filippo Penati e per 2 milioni di euro anche oggi come allora di mezzo ci sarebbe una caparra quella che Binasco avrebbe dato all'imprenditore dei trasporti Di Caterina per l'acquisto mai avvenuto di un immobile nell'area Falc di Sesso San Giovanni nel contratto sarebbe stata inserita una clausola prevedeva che il generoso anticipo sarebbe comunque rimasto nella disponibilità di Di Caterina anche in caso di mancato acquisto dell'immobile proprio quei 2 milioni di euro che l'imprenditore di Sesto personaggio chiave dell'indagine reclamava dal dirigente PD Penati sin dal 2008 quando l'ex braccio destro di Bersani era alla guida della provincia e che gli sarebbero stati effettivamente restituiti in questa triangolazione che vede coinvolto il manager Binasco uomo di fiducia dell'imprenditore delle autostrade Marcellino Gavio da lui Penati nel 2005 aveva acquistato il 15% di azioni della Minano Serravalle un'operazione sospetta giudicata di scarsa logica imprenditoriale a svelare agli inquirenti l'operazione sarebbe stata una lettera scritta proprio da Di Caterina nel 2008 a Penati e a Binasco ho versato a vario titolo a Filippo Penati e scritto nella lettera acquisita nel fascicolo dell'inchiesta notevoli somme che ha promesso di restituire vi sollecito a rispettare gli impegni assunti non si può giocare con le vite degli altri tutto a un limite scritto nuovi indagati dunque tra questi anche l'ex re delle bonifiche milanesi Giuseppe Grossi e l'immobiliarista Luigi Zunino per false fatture e tangenti ecco e anche sul fronte dell'inchiesta sulla cosiddetta P4 le indagini dei PM napolitani vanno avanti ricordiamo che la giunta per le autorizzazioni a procedere dovrà decidere sull'arresto chiesto appunto dalla procura di Napoli per Marco Milanese l'ex braccio destro di Tremonti in vista di quel voto ieri nuovi atti sono stati inviati proprio a Montecitorio Un incontro riservato tra il ministro Tremonti e il procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo anche questo episodio è finito nelle carte del PM Piscitelli di Napoli che indaga sul parlamentare del PDL Marco Milanese già consigliere economico del Ministero su cui pende una richiesta di arresto per associazione per delinquere corruzione e rivelazione di atti coperti da segreto la circostanza è negli atti trasmessi dai magistrati napoletani alla Camera dei Deputati il ministro e il magistrato sarebbero stati insieme a pranzo a casa di Luigi Fischetti penalista di origine pugliese il cui nome spunta anche nel faccia a faccia davanti ai PM napoletani che indagano sulla P4 tra il generale della Guardia di Finanza Adinolfi e Milanese a proposito di una cena di compleanno del generale a cui erano presenti Fischetti lo stesso milanese il ministro Gelmini Giuseppe Lasco ed altri ospiti il penalista sentito dagli inquirenti ha raccontato che il pranzo a casa sua con Tremonti e Capaldo c'è stato ma che non fu il magistrato a sollecitarlo milanese mi chiese di fare da tramite dice Fischetti perché Tremonti aveva piacere di conoscere il magistrato diversa la versione di milanese che invece ha raccontato ai PM napoletani che fu l'avvocato Fischetti a dirgli che Capaldo voleva conoscere il ministro dell'economia sia Fischetti che milanese negano che durante quel pranzo furono affrontati argomenti relativi a procedimenti giudiziari ma nelle carte arrivate a Montecitorio c'è dell'altro la testimonianza del direttore della filiale e del credito artigiano di Roma dove c'erano le cassetti di sicurezza riconducibili a milanese a proposito delle sterline d'oro che milanese ha venduto per un valore di oltre 250 mila euro la cui provenienza resta incerta altre verifiche sono in corso anche sui due appartamenti al centro della capitale affittati da milanese uno dei quali era stato nella disponibilità del ministro Tremonti qui si inserisce l'altro filone d'inchiesta che vede coinvolto sempre milanese passato dalla procura di Napoli a quella di Roma appalti per oltre 25 milioni di euro lavori che la Sogei società di informatica controllata dal ministero dell'economia avrebbe concesso alla società Edilars in cambio di favori e ristrutturazioni in appartamenti tra cui quello di via Campo Marzio sulla richiesta di arresto per milanese la giunta per le autorizzazioni della camera dovrà pronunciarsi mercoledì prossimo quanto ad Alfonso Papa il parlamentare del PDL al centro dell'inchiesta sulla cosiddetta P4 resta l'inchiuso nel carcere di Poggio Reale dopo l'interrogatorio di garanzia in cui ha sostenuto di essere una vittima di Luigi Bisignani la prossima settimana il GIP dovrà decidere sull'istanza presentata dai suoi vocati per la scarcerazione o per la concessione degli arresti domiciliari i vigili del fuoco hanno dovuto lottare per almeno 12 ore prima di avere ragione del rugol il grande incendio il grosso incendio che ha colpito questa notte la stazione Tiburtina a Roma si tratta di un nodo strategico che sarà molto importante soprattutto per la TAV per questo motivo si sospetta ma si tratta soltanto di un sospetto non ci sono prove al momento al riguardo che potesse essere questo incendio doloso quel che è certo è che il traffico ferroviario è andato letteralmente in tilt ed è probabile che anche nelle prossime ore si sentono le ripercussioni di quello che è accaduto questa notte a Roma vediamo un'alta colonna di fumo le fiamme l'odore acre nell'aria stazione Tiburtina Roma Est nuovo centro direzionale un cantiere ancora aperto ci sono volute 15 ore per riuscire a domare l'incendio scoppiato alle 4 di notte a dare l'allarme agli agenti della polizia ferroviaria immediato l'arrivo dei vigili del fuoco un intervento complicatissimo le fiamme infatti si sono propagate nella sala apparati di una struttura ancora incostruzione nel sottoterra cavi e legno ovunque lavori di ammodernamento per l'alta velocità di cui la stazione Tiburtina deve diventare snodo importante un business da quasi 35 miliardi di euro fino ad ora non è stato ancora possibile raggiungere il punto esatto dove è scoppiato il rogo la temperatura è troppo alta le operazioni di raffreddamento sono iniziate solo intorno alle 19 dopo che le fiamme sono state spente ancora tutte da chiarire le cause dell'incendio per ora gli investigatori non possono escludere alcuna ipotesi si può escludere il dolo? io al momento non le posso assolutamente non lo posso escludere così come non posso assolutamente confermarglielo per capire cosa è davvero successo bisogna aspettare che si faccia almeno il primo sopralluogo l'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito in molti però hanno pensato ad un atto doloso legato ai notav che hanno subito reagito in rete negando con rabbia ogni responsabilità quello che è certo è che per tutto il giorno il traffico ferroviario è andato in tilt la stazione è stata chiusa treni solo in transito molti quelli deviati nazionali e locali secondo ferrovie dello Stato il 28% dei convogli a lunga e breve percorrenza sono stati soppressi ripercussioni soprattutto a Napoli Milano Firenze Bologna e Palermo con ritardi fino a 5 ore il problema grosso però è domani quindi dobbiamo aspettare l'evolversi della situazione e poi intervenire con la regione con ferrovie per trovare sicuramente dei mezzi alternativi del trasporto su gomma per ora la stazione non può essere riaperta c'è ancora rischio di crolli la procura di Roma ha già aperto un'indagine ed ora negli Stati Uniti con il paese a rischio default tutti gli occhi sono puntati sulla riunione che sta avvenendo alla Casa Bianca fra il Presidente Obama e i leader del congresso ieri il leader della maggioranza Nancy Pelosi aveva in qualche modo cercato di tranquillizzare i mercati quello che è vero è che se non si raggiungerà una decisione probabilmente saranno proprio i mercati i mercati finanziari di tutto il mondo a risentirne questa notte è notte per noi i mercati asiatici saranno i primi a riaprire l'America deve arrivare all'esame con qualcosa di convincente anche solo il sospetto che la banca rotta la sfiori può avere conseguenze pesanti vale a spiegare la Cina piena com'è di titoli del debito statunitense sarà la notte più lunga per Obama per alzare il tetto del mostruoso debito pubblico americano serve una legge è già accaduto decine di volte ma per farla bisogna passare dai repubblicani alla Camera comandano loro e non vogliono mollare sulla richiesta presidenziale di aumentare le tasse mossa da mille miliardi di dollari su circa 3.000 di piano complessivo che colpirebbe i cosiddetti ricchi mossa che scatena insomma la più classica delle guerre tra lobby tra caste sull'orlo di un precipizio il 2 agosto il debito pubblico raggiungerà il tetto degli oltre 14.000 miliardi di dollari fissato per legge senza un accordo bipartisan per sforare l'America sarà insolvente rischierebbe di non pagare interessi e stipendi federali in un attimo i tassi di mercato salirebbero di un punto gravando su multi carte di credito e cane che si morde la coda sul debito stesso c'è davvero qualcuno che nella prima economia del mondo voglia prendersi questa responsabilità difficile ma dopo Lehman Brothers mai dire mai il nodo sullo sfondo delle presidenziali del 2012 è che i repubblicani vogliono demolire Obama perché ha montato il debito salvando le banche e l'industria dell'auto di Detroit e ha sognato troppo in grande su pensioni e sanità visioni diverse Gaitner il Tremonti d'America chiede che la partita sul debito non sia politica tutti hanno da rimetterci e un accordo di facciata non basta il problema è strutturale se si guarda il rapporto tra debito e PIL quello che ha inchiodato la Grecia scampato pericolo si scopre che peggio fa solo il Giappone poi ci siamo noi e infine l'America un 103% ufficiale ma un pericoloso 140% reale calcolando tutte le garanzie del tesoro americano che oggi peraltro ammette anche la possibilità che il PIL ora rallenti spazi ristretti di manovra dunque aggravati dall'odore del sangue fiutato dalle solite agenzie di rating Standard & Poor's americana che non fa sconti ha detto di valutare comunque tetto o non tetto il taglio del voto sull'affidabilità finanziaria degli Stati Uniti dalla AAA alla AA+. Ed è probabilmente questo il vero interrogativo con cui da domani Wall Street dovrà fare i conti e non solo lei ecco visto che parlavamo di mercati finanziari asiatici trasferiamoci a Shanghai dove una straordinaria Federica Pellegrini la nostra campionessa ha regalato all'Italia un'altra medaglia d'oro nei 400 metri stile libero può succedere di tutto ma lei è sempre lì a confermare un dominio assoluto una vera certezza Federica Pellegrini si conferma campionessa mondiale dei 400 stile libero e mondiale di nuoto di Shanghai lo fa ottenendo la quinta prestazione mondiale di sempre 4 minuti un secondo 97 centesimi la gara è la fotocopia di tante altre di tanti altri successi partenza lenta poi la progressione ai 250 Federica è già prima ai 300 un cambio di passo strepitoso il distacco aumenta ai 350 è solo una lotta tra lei e il tempo le altre dietro impotenti a guardare un trionfo annunciato alla fine la britannica Rebecca Ellington è seconda oltre due secondi la francese Muffat terza sono felice ho ritrovato le stesse sensazioni di due anni fa queste le sue prime parole dopo il trionfo due anni fa agosto 2009 Roma mondiali vittoria e record prima donna a scendere sotto il muro dei 4 minuti più forte di tutto anche di quell'ansia che a volte le mordeva il cuore e non la faceva dormire più forte della paura di affondare che a volte la prendeva durante la gara o qualche istante prima la paura di non farcela ad arrivare alla fine di bloccarsi a metà come quella volta a Pechino Olimpia di 2008 quando partì a razzo nella finale dei 400 stile libero e finì la benzina a metà ottenendo un deludente e quinto posto due anni fa quando a consigliarla era Alberto Castagnetti che per Federica non era solo un allenatore ma un padre poi la morte di Castagnetti la voglia di fuggire di mettere una barriera tra sé e il mondo un 2010 difficile segnato da alti e bassi l'arrivo del nuovo allenatore Filippo Lucas uno capace di reggere la pressione e trasmetterle sicurezza esattamente quello che Federica cercava il trasferimento a Parigi la voglia di lasciarsi alle spalle il passato e nuotare verso il futuro la consapevolezza di esserci riuscita e la certezza è arrivata oggi di essere tornata più forte che mai Ed ora la Formula 1 domenica senza vittoria ma tutto sommato positiva per la Ferrari vediamo com'è andata Ferrari ancora sul podio ma stavolta Alonso si accomoda sul secondo gradino forse un'occasione persa o forse un altro passo avanti verso la rimonta che appare difficile ma non impossibile di fatto dopo il successo di Silverson si sperava nel bis ora lo spagnolo è lontano 86 punti da Vettel ma la Red Bull non è più irraggiungibile come qualche settimana fa è così vero che oggi al Nurburgring nemmeno la pole position di Mark Webber dura più di qualche metro troppo veloce in accelerazione la McLaren di Hamilton e anche nel duello per il terzo posto la Red Bull è in affanno Alonso tiene testa Vettel che per tutto il Gran Premio soffre per una frenata tutt'altro che equilibrata un errore costa all'asturiano della Ferrari la terza piazza che poi riesce a recuperare con un sorpasso impeccabile merito soprattutto della velocità che la lettone mobile azionabile dal pilota soltanto in un tratto di pista riesce a regalare ad una rossa decisamente in progresso nessuno dei primi tre Hamilton, Weber ed Alonso si stacca in modo netto l'unico a perdere secondi preziosi è Vettel incappato in un testa coda e costretto ad una furiosa rimonta proprio non è giornata per il campione del mondo dopo ben 14 podi consecutivi quella in scena in Germania è una vera partita a scacchi con i destini della gara affidati anche alla bravura dei meccanici ai box per un po' la leadership ha impugna ad Alonso ma Hamilton è sempre il padrone della situazione la svolta in negativo per Alonso arriva nel finale montate le gomme a mescolatura Hamilton vola mentre lo spagnolo perde contatto conservando comunque la piazza d'onore l'ultimo giro la beffa è tutta di Felipe Massa un dado della ruota non fissato alla perfezione gli fa perdere decimi di secondo preziosi e il quarto posto conquistato da Vettel e ad una settimana da Budapest alle spalle del tedesco Weber Hamilton ed Alonso sono tutti racchiusi 9 punti bene ed ora una breve pausa per la pubblicità allora in conclusione un aggiornamento che riguarda appunto l'incendio che c'è stato questa notte alla stazione Tiburtina di Roma parlavamo del fatto se potesse o meno essere un incendio doloso e starà naturalmente istituito una commissione d'inchiesta tra le possibili cause leggo non esclusa la manomissione o asportazione di cavi o di collegamento in rame che poi potrebbe aver provocato un cortocircuito d'altronde quella dei furti di rame lo sapete anche voi è una pratica diffusa visto il prezzo di questo metallo sul mercato vabbè è veramente tutto allora buon procedimento di serata se volete continuare a vedere il nostro notiziario alle 23.45 prossima edizione del Tg arrivederci il nostro notizio